Ciao a tutti, sono Ace e questa è la mia B.U.B.A. Aia, si fa già male. Con calma. Posso iniziare? Sì, sì, però attento per carico. Oh, che ansia. Se arrivo addosso fa male. Davvero? Sì. Fa male? Potrebbe. Sì, sì, tanto merito. Che ansia, che ansia. Senza ansia, vengono qui. Ok, vado. Vole o non proprio, però. Adesso è verso il basso. Ma si muove? No, non si muove. No, adesso è fermo. Quindi è una cosa che si può muovere. Sì. Sì, ma adesso mi sa che è stato bene. Però adesso si è spostato verso il basso. Vai, vai. Guarda, è in basso, sì, sì. Vai, vai. Vai piano piano, ok? Ci sei quasi. Oddio, che ansia. È vicino a te. Vai. La mano a destra è vicino. Vai, vai. Ok, si è lì. No, adesso è lontano. È proprio verso il basso. Dove? Qua, più a sinistra. No, no, è sul centro, va se vai verso il basso. Occupa tutto, però verso il basso. È una cosa sola? Sì, sì, però è molto grande. È spesa. Occupa tutta la posse. Oh, mi dico. Vai, vai, provali a toccare. Vai, 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 tranquillo. Che palle. Ok, ci si puoi? Vai, vai. Vai, affè, affè. Ok, sì, sì. Oh, oh, oh. Eh, attento. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Forse lo capisci, non lo so. Non lo so, è rubo. No, vabbè. Non so dove l'abbia preso. Non ho troppo paura. Vai, vai. Che cos'è? Non lo sappiamo noi, quindi. Toccare per indovinare. Si è svegliato? L'ho toccato? Non si è svegliato. No, no, ancora ferma. Approfittate adesso. Approfitto, vai. Sì, lì. Ok. Prova ad afferrare. No, se non c'è il pente. Così lo blocchi. Vai, vai, vai. Vai, vai. Non so che se non c'è il pente, ma lo lungo dentro. Ok. Oh, c***o. Vai, vai, vai. Vai. Prova ad afferrare proprio. No, no, no. Si, si, afferra. Così si blocca. Mi può mordere. No, no. No? No, vai, vai, vai. No, sì, vai. Vai, vai, vai. Cosa può sembrare? Cosa può sembrare? Oddio, che paura. Adesso sta dormendo? Ruvido, morbido. È morbido? È morbido? Sì, allora no. Vai, vai. Non so, magari un serpente. Magari. Cosa potrebbe essere? Ok. Ok, no, no, la vicino, la vicina ce la faccia. Vai un po' più. Non farlo uscire. Vai su la destra. Ok, c***o. Ok, sì, ce l'hai, vai, vai. A ferra, vai, ora a ferra. Vai, tirato, tirato. Ok, ce l'hai, ce l'hai, ora. È finito. Non è solo là. È un serpente di pomma. È un serpente di pomma. No, no, però può essere sì. Boh, cos'è una corda? È una corda? È una corda? Esatto, esatto. Sì, è una corda. Sì, sì, è una corda. Hai giocato? Dai. Complimenti a me. Ai via. Piano. Ce l'ho piano. No, non gioco. Ho troppa anza per queste cose. Sì, non è che faccia la trovare. No, questo non si muove. No, ok, per il momento non si muove. Però può far male. Può muoversi. Oh, madonna, cioè mi fate salire l'ansia, vi giuro. C'è davvero l'ansia. Sai cosa puoi fare? Puoi partire dai lati e puoi magari andare verso il centro, capito? Sì, adesso è al centro. Perché ora è al centro, quindi tu magari facciamo un po' di sicurezza e intanto metti le mani dentro. Parti da lati e poi dopo vai verso il centro. Però magari è un po' spicoloso, quindi può fare un po' male. Vai, vai, vai. Proprio al centro adesso. Sì, ti chiedo le mani. Ok. Ci sei vicino, comunque colto la mano adesso ci sei vicino. Ok, c'è lì. Vai più avanti. E là, un po' più sopra. Eccolo. E là, la c***a è quella. E' fermo, vai, vai. L'ha detto. Oh, oh, oh. Oh, tu si muove. Fermo. Così lo fai scappare. Non mi prendete per il culo. No, no, no. No, sta facendo qualcosa dall'assù. Afferra diretto, se no si muove. No, no, ho troppo paura. Tu afferralo. Si muove. Sì, con tutte le mani è meglio, fidati. Ok, prova a sollevarlo, se no. Ma cos'è? Se la sollevi però esce cosa c'è all'insanata. Sì, infatti, quindi occhio. Si trova in mare, diciamo. Dai, sì, sì. Ah, ok. Una gunchiglia. Esatto. Una gunchiglia, perfetto. Ok, a posto. Troppo forte. Ah, questo mai visto. Io ti posso dare un consiglio. Da sopra parti e poi, tipo, boom, attacca. Almeno è morbido per fortuna. È morbido. Quindi tu hai proprio diventato all'interno di questa cosa. Quindi tu hai proprio... Vai da sopra. Di potenza. Da sopra, ok. Col dito poi schiaccia verso il... Così magari... No, 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 no. Con la peppa no. Dacci un punto. Trasporno. Vai, vai, ok, vai. Entra di... Vai, vai. Oh, ma che c***o perché mi ha creato un dito di finito? Ma che c***o? Ma che c***o? Si sta muovendo. Aspetta che si sta muovendo. Ok, no. È fermo, è fermo, è fermo. È fermo, vai. Vai, vai, a farla. Vai, vai, vai. Ok, sì. Senti, com'è? Moro? Eh, sembra pane. Pane? No, no, no. No, no, no. È pongo? No. No, non è pongo. È una cosa... Si mangia, si mangia. Si mangia, vai. Vai, vai, vai. Ok, ci sei, ci sei. Vai. Tasta un po'. Tasta, dai. Ah, un panettone. Esatto. Ok. Non ci ha fatto dire neanche a noi. Pronto per la prossima. Scopriamo tutti. Aia, aia. Questa... Questa qua si muove veramente. Oh, c***o no. No, questa veramente, non stai a scherzare. Fa male. Vieni attento dove tocchi. Ti sta muovendo adesso? Si agita molto se lo tocchi male. Oh, madonna. Oddio, oddio. È più di una cosa? No, no, è una, una. È una cosa, sì. E si muove. Si muove. Si muove anche tanti in questo... Quindi vive. Oh, c***o no. Si ispira, morde, mangia, le dita soprattutto. Io ho la fobia degli insetti, regà. Posso sembrare una cosa bella, ma in realtà non lo è? No, lei non è un insetto. È un animale proprio. Poi vai piano, docile, perché... Vai, vai, vai. Se appena senti un minimo rumore... Non può mordermi, no? Non lo so, dipende. No, adesso hai girato. Non va bene, vai, vai. Non va bene, vai. Non va bene. È girato, non vede. È girato verso di nuovo. È girato verso di nuovo, è per fortuna. Vai, vai. Ma senti se mi avvicino. Oddio, attento con quella mano. Vai piano, lento, lento, lento. Che ansia. Ok, edam. Che c***o? Vai, è un po' già perso di te. Ti sta fissando, però è fermo. Adesso c'è la brocca verso di me. Vai, vai, prova con quella altra mano da dietro. No, vabbè, regà. Vai, sì, ok. Ok. Cos'è? Mi sono staventato. Si muove un sacco. Adesso non più, adesso vai che calmo, vai che calmo. Vai, 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 proprio, vacci diretto. Oh, vai, vai, adesso hai girato, hai girato. Ho un'ansia, ho un'ansia. Vai, vai. Prendi la testa da dietro. Devi essere veloce. È la testa. Sì, è la testa, sì. Non ci dai. Ha una testa, ha una testa. Ecco, ecco. Vai. Ok. Finché non ridico di attaccare, non attacca, tranquillo. Ok. Oh, oh. Finché non tocchi, è abbastanza calmo. Devi toccarla con delicatezza. Guarda, attacca, attacca. Eh, no. No, scherzo, scherzo, vai, vai. Puoi mettere sempre le mani dai lati e poi attacca. Lo dovrei prendere. Immobilizzalo, immobilizzalo. Occhio, non dali troppi colpettini perché poi si agita. Ecco, prova a tastarlo un po'. Prova a tastarlo un po'. Non capisci che... Magari col dito, capito, vai là. Oh, oh, c***o. L'ho sentito, l'ho sentito. Troppi colpettini. L'ho sentito. Vai, 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 vai. Ok. Sei già troppo su di te, ti sta guardando male. No, no, no. Ma, regà, mi morde, mi morde. Cos'è? Vai con l'altra un po' al rischio. Eh, la della... Non penso che la sinistra sia ok. Facci proprio in diretto, se no... Oh, 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 che c***o era. Che c***o era. No, non lo sai. Se no, con la sinistra, con la sinistra e con la sinistra lo prendi da dietro. Vai tipo a trazione. Mi prende lui, cioè, ve lo giuro, ma cos'è? Ok, ora sei rintalato. Mi ha attaccato. È il tuo momento, è il tuo momento. Vai, vai, vai. È incazzato. No, è incazzato, regà, ho paura. Non puoi farmi male. Ah, ti può addormentare. Ma... No, no, è sempre senso. Vai, 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 vai. Non può uscire da là. Vai, vai. Prova. Con una mano è peggio. Sì, con due, afferralo con due. Meglio la faccia ad afferrarlo. Con una è difficile. Vai, 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 vai. Esitare. No, no, no. Cos'è? Ma che... Afferra, afferra. No, non l'afferro, non l'afferro. Vai, vai, fatti finta di me. Tutte e due le mani afferro. Sì, con una non fai niente. Ma non so manco che formale, come faccio ad afferrarlo? Eh, appunto, devi afferrarlo perché... Afferralo. Con un po' di coraggio. Adesso è tipo... Non ti fa del male. Sto sudando. Ok, fidati, non fa del male. Voi non sapete quant'ansia ho veramente io adesso. Eh, devi averla, per forza. Fidati di me, non fa male. Se tu ci vai convinto, non fa male. Confidiamo in te. Forse. Si sta grattando, si sta grattando. Cosa? Si sta grattando. Non può farmi male. No. Sicuro al 100% non può farti male. Aprile mano. La sinistra adesso afferra. Vai afferra, afferra. Quasi, c'eri quasi. Vai, afferralo. Vai, vai, vai. E tu, e tu, e tu. Non si può più. Vai, vai, vai. Cos'è questa cosa? Vai, vai, vai. L'avevi toccato? No, l'avevi preso, no. Cos'è? Vai, è morbidoso. Cos'è un animale morbidoso? Dai, è un animale morbido. Vai, vai. Ok. Oh, oh. Occhio. Vai. Vai, vai. Non è un animale, regà, ma cos'è? Si è baggata la testa. Non è un animale, ma che cos'è? Ecco. Vai, vai, prendilo, vai. Prova a dire. Ora tocca, ora tocca, ora tocca, ora tocca, c'è una coda. È scappato. Mi sa che l'ho ucciso. Mi sa che l'ho ucciso. È un pupazzo la volta, capito? Sì, è un pupazzo. Vai, vai. Te lo ha pure fuori. Vediamo? Mi sono cagato così tanto per questa cosa, veramente. Madonna. Peggiore, no? Sì, l'ultimo è il peggiore, infatti, che schifo. Questo è davvero vivo. Questo qua è quello veramente vivo. Oh, cazzo. Si muove, cioè, si muove. Sì, questo è proprio vivo. È più di una cosa? No, no, sempre una cosa. Approximamente 10 ore dopo. Lo afferralo. Dai, adesso fermo. Devi afferrarlo, devi afferrarlo. Lo afferra, te lo pure. No. Prima l'altro, prima l'hai afferrato il pupazzo e il coperto. Che cazzo è? Sono dei tentacoli, quindi cosa vuoi fare? Ah, ok. Esatto, esatto. Ok, ok. Che ansia, madonna. Ciao a tutti, questa è stata la mia B.U. Box. E niente, ci rivediamo. Ciao. 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 B.U. Box. B.U. Box.